Sono ai volti i nomi dei campioni d'Italia del basket, da Austin Day e Sara Madera, fine campioni del Remo e della regata storica di Venezia, con un nome su tutti, Rudy Vignotto e San, il figlio, Mattia, tutti veneziani o che militano su Venezia e non potevano mancare loro gli esponenti del Venezia Calcio maschile, con il capitano Marco Modolo, per lui esordi in Serie A nella partita vinta con la Roma, e Venezia Calcio femminile con Alessandra Nencioni, centrocampista offensiva, soltanto alcuni dei grandi campioni veneziani che hanno aderito alla campagna di promozione contro il Covid e a favore della vaccinazione. Cercheremo di coinvolgere altri sportivi per riuscire a sensibilizzare tanti ragazzi affinché si vaccinino, affinché si tutelino la propria salute. Già fissi i primi manifesti tra le vie e calli delle nostre città per l'iniziativa condivisa da Comune e ULS3 insieme. Qualsiasi iniziativa viene fatta per sensibilizzare le persone a vaccinarsi, è un elemento importante che va ad aggiungersi già all'80% della popolazione che l'ha fatto e quindi utilizzare gli sportivi che sono un simbolo per molti, per i giovani, per vaccinarsi è sicuramente un altro elemento che aggiunge tutto quello che è stato fatto assieme tra ULS e Comune di Venezia, quindi ringraziamento a Comune di Venezia per questa iniziativa. Tra gli sportivi che hanno aderito al progetto, esponenti del basket mestre e del calcio mestre con altri nomi di campioni e società che con grande entusiasmo si stanno aggiungendo la campagna di sensibilizzazione pro vaccino.